Carmela Russo, TV Siti, ieri ha raccontato la storia di Pasquale Imperato, anche il Comitato delle Mamme di Sabili di Torre del Greco sostiene la sua battaglia contro le barriere architettoniche in questa città. Sì, noi siamo le famiglie di ragazzi di Sabili, di associazione di Sabili Torresi e quindi siamo dalla parte di Pasquale Imperato, assolutamente, perché sappiamo sulla nostra pelle che cosa significa le barriere architettoniche, i problemi che ci stanno. Sposiamo la sua causa, faremo di tutto per farci sentire anche noi dalle istituzioni, sperando che al più presto si possa risolvere questo problema. Ecco, quindi rinnoviamo un appello forte all'amministrazione comunale ad affrontare queste problematiche. Sì, assolutamente, noi siamo sempre sul piede di guerra proprio perché ce ne sono tante, tante, tante veramente da risolvere. Assolutamente si deve fare qualcosa per il Pasquale Imperato, per tutti i disabili di Torre del Greco, quindi noi siamo pronti a tutto come sempre. Voi che avete dei ragazzi con queste difficoltà, che significa vivere questi disagi tutti i giorni e vivere in una città come Torre del Greco? Significa affrontare degli slalom tutti i santi giorni, non possiamo accedere a... ma semplicemente in un bar non possiamo andare a prenderci un caffè perché i bar non sono attrezzati, non hanno le pedane tipo veniamo agli uffici comunali, non c'è una rampa, non c'è... o se c'è non funziona, mancano le chiavi, manca di tutto cioè la vita già è in sé per sé difficile, poi nessuno fa nulla per aiutarci, noi siamo tutti quanti un po' Pasquale e quindi vogliamo lottare con Pasquale affinché perlomeno ci assicurino un minimo di vivibilità nella nostra città. Grazie a tutti. Grazie a tutti.